Capita spesso durante il campeggio di radunarsi la notte attorno al fuoco e raccontarsi storie dell'orrore lasciando che la fonte di calore illumini le facce di tutti i partecipanti rendendole adatte all'atmosfera e questa viscida mostruosa creatura vaga proprio per queste zone tenendo agguati alle sue prede immobile aspetta per poi balzare e dal nulla sbuca gridando un essere orrendo avvolto dall'oscurità e coperto di fatto si agitano urlano per lo spavento improvviso ma dopo poco la creatura si avvicina al fuoco rivelando la sua vera identità un complice del narratore che voleva terrorizzare i poveri campeggiatori alcuni ridono altri rimproverano i due nessuno invece si accorge della creatura che striscia silenziosamente in una delle tente grazie a tutti grazie a tutti